Piano? Che piano? Non hai un piano? Dici solo cazzate. Piano. Aspettate e vedrai, stronzo. Magus, qui. Esatto. Martello dell'alba scollegato. Ah, perfetto. Bene. Patrollo, siamo fuori dalla tomba. La fabbrica di Emulsion è poco più avanti. Attenti, però. Si stanno avvicinando dei nemici. Sanno di sicuro dove siete. Ricevuto. Fantastico. Baird e io andiamo a sinistra. Voi due andate a destra. Va bene. Se bel conferme, io rovino la giornata. Ci siamo capiti? Io faccio male. Ehi, ma non ti stacchi mai. Col cavolo. Oh, che schifo. Aum, siamo bloccati. Vedi se trovi un'altra via d'accesso. Ricevuto. Bene. Guardate, laggiù. Merda. Sei attaccato dai boomer. Raggiungo subito la tua posizione. Che? Dove? Ehi, strozzi, guardate. Guardate qua su. Oh, ninite. Granata! Ce l'hai per tutti! Dannazioni, sono grossi quasi quanto te, Cole. Già, quasi. No. Mi sta ritirando? Già, vuole aspettare. Ti viene per dopo. Come dessert. Cazzate. Pensi che scherzi? Credo che ti sei fottuto il cervello. Ecco che penso. Oh, che carino. Come due stronzi al primo appuntamento. Battite. Oh, che carino. Oh. Oh. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.